Siamo in compagnia di Marina Salomon, imprenditrice, alla quale chiediamo il futuro dell'impresa secondo Luigi Sturzo. Io credo che Don Sturzo immaginasse un futuro giusto, un futuro molto etico in cui il nostro mestiere di imprenditori è carico della responsabilità sociale di essere dei cristiani in ogni gesto e in ogni scelta. Ed essere cristiani non significa essere a mio parere buoni o non coerenti e incapaci di produrre giusti profitti, significa condizionare ogni nostro gesto al Vangelo e alla possibilità di costruire posti di lavoro giusti e opportunità di crescita per le persone che sono con noi nelle aziende. Quindi no alla speculazione privata e no agli interessi personali quando essi danneggiano il bene delle imprese.